gentili telespettatori buona giornata venezia con l'acqua alta quasi due metri un metro e 87 raggiunto quasi il record assoluto che era di un metro e 90 in 94 ma nel 1984 è stata pensata una soluzione per salvare venezia dall'alta marea dall'alta marea era appunto il mose poi messo in discussione bloccato altri progetti per impatti ambientali vari alla fine si è proceduti ma dall'84 a oggi non è ancora pronto sarà pronto il 31 dicembre del prossimo anno cioè tra 13 mesi perché devono fare ancora i collaudi immaginate dall'84 al 2020 sono 35 lunghi anni per fare questo e a me viene sempre in mente i cinesi che in qualche ora ti costruiscono un ponte in qualche ora ti costruiscono una ferrovia e noi 35 anni per fare il mose 35 lunghissimi anni ma visto l'acqua alta averizia ha provocato gravissimi danni alle chiese agli hotel a tutto a tutto perché quasi due metri di acqua alta ha rovinato i danni sono incalcolabili dicono dal ministero dei beni culturali e c'è la polemica del perché non si sia alzato il mose perché il mose è pronto è lì mancano solo da definire i collaudi ma è già tutto posizionato può funzionare anzi funziona perché non è stata alzata non state alzate queste paratie per difendere dell'acqua alta nel 2019 erano previsti solo dei test di sollevamento che stiamo svolgendo e lo avevamo scritto al ministero delle infrastrutture lo scorso 10 dicembre e comunque non siamo certo noi commissari a poter decidere se alzarlo serve una cabina di regia istituzionale chi è che sono che lo dice è francesco ossa ingegnere docente universitario a torino il commissario tecnico del mose mentre l'avvocato giuseppe fiengo segue gli aspetti contrattuali e legali ovviamente in questo momento non c'è nessuno che abbia la delega la responsabilità di alzare questa diga perché è una diga o abbassarla chi lo deve fare il prefetto il capo della polizia il capo dei vigili il sindaco l'assessore xy il governo centrale chi è che è autorizzato ad alzare questa diga in questo momento nessuno non c'è nessuno che è stato disegnato come autorità che possa alzare questa diga sta di fatto che se fosse stata alzata avrebbe salvato i danni incalcolabili a venezia perché c'è uno studio che dice che il mediterraneo si sta alzando di 9 centimetri proprio per il surriscaldamento del pianeta si sciolgono i ghiacciai si alzano i mari quindi probabilmente c'è uno studio che parla anche che tra alcune decine d'anni molte città costiere saranno sommerse dal mare c'è chi si chiede perché non funzionano ancora queste questa diga questo mose c'è chi dice che non funzioneranno mai chi invece i commissari avrebbero dovuto avere il coraggio di alzarle per difendere gli abitanti dall'acqua alta eccezionale di martedì sera d'altra parte era stato lo stesso ex provveditore roberto linetti dopo i 156 centimetri del 29 ottobre 2018 a dire che lui le avrebbe alzate se avesse potuto ma ecco la risposta a chi chiede ai commissari perché non abbiano alzato le paratie e rispondono ci sono vari aspetti il crono programma prevede che per quest'anno solo test bocca per bocca dobbiamo tarare le parti meccaniche il software che è un aspetto fondamentale quanto le paratoie si alzano soprattutto con condizioni estreme di vento come ieri le onde ci sbattono contro violentemente tendono ad abbassarle e un software corregge questa situazione e le riporta su ma deve essere ancora settato senza aver finito questi test il rischio è che l'onda le scavalchi creando dei danni alla città e anche alle paratoie e poi aggiunge quando abbiamo fatto i test abbiamo dovuto ottenere tutti via libera dalla capitaneria di porto su giorno ora e modalità questo per dire che non basta che i commissari premano un fantomatico pulsante rosso ma è necessario istituire una cabina di regia e un protocollo di intesa con tutti i soggetti istituzionali competenti capitaneria comune di venezia regione provveditorato prefettura anche questo l'abbiamo detto al mit a dicembre e i giornalisti chiedono ma volendo allora le dighe si potrebbero questo il mose si potrebbe alzare anche oggi in questo momento e la risposta dice in realtà no perché c'è un problema di risorse umane per alzare in modalità manuale servono quattro persone una per ogni schiera di una ventina di persone ciascuna noi ne abbiamo una per ora che serve per i test abbiamo sottoposto al provveditorato la necessità di reclutare questi tecnici e formarli adeguatamente stiamo poi finendo i collegamenti per tutti gli impianti quindi attenzione non c'è un fantomatico bottone rosso comunque se c'è c'è bisogno di diverse decine di persone per fare funzionare la macchina mose e aggiunge ma anche che noi non avremmo potuto alzarle i nostri tecnici e noi non possiamo neanche farlo dice di fronte a un evento del genere potrebbe essere la protezione civile o la prefettura ad autorizzarci a fare questa operazione prima del collaudo ma valgono le riflessioni fatte prima ovviamente i commissari diciamo che non se la sono sentita in autonomia di far alzare le paratie perché come dicono loro le onde piegano queste paratie il software non funziona per raddrizzarle e poi un'onda anomala avrebbe potuto fare più danni a venezia del semplice innalzamento dell'acqua quindi loro non si sono presi la responsabilità degli eventuali danni provocati dall'inalzamento del del mose che poi non magari non funzionava per chissà quale motivo perché ancora non è collaudato quindi se le alzavano probabilmente magari dopo sarebbero finiti anche nei guai in maniera giudiziaria e loro non se la sono sentita di di prendere in autonomia questa decisione mentre il sindaco di chioggia alessandro perro aveva chiamati aveva chiamato i commissari per chiedere di alzare una sola paratie a quella che avrebbe difeso appunto chioggia dice perché non l'avete fatto chiede il giornalista dice i nostri tecnici hanno verificato che con quelle condizioni di vento di bora una chiusura della sola bocca di chioggia avrebbe creato maggiori danni alla città facendo insaccare l'acqua e alla domanda se il mose funzionerà dice il sistema sta rispondendo bene ai test se non fossi convinto che il mose che il mose funzionerà non sarei ancora qui non ho alcun dubbio che difenderà venezia però ci sono anche problemi di corrosione vibrazioni ai tubi c'è il mose comunque deve essere mantenuto costantemente perché immaginate che queste questa diga e subacquea rimane sotto l'acqua con tutti i problemi che può derivare rimanere sotto l'acqua salata eccetera eccetera e i tecnici rispondono che si tratta di problemi tutto sommato modesti anche in termini economici per esempio le vibrazioni saranno risolte nell'arco di un mese con un'operazione molto semplice mettere più staffe la corrosione riguarda alcune parti delle cerniere non certo le paratoie quando le solleviamo sono solo sporche non con rose e basta pulirle però le mose va avanti con i test il 14 novembre faranno un nuovo test a chioggia con due paratoie ma fare un test non vuol dire difendere venezia dall'acqua alta non abbiamo mai detto che sarebbe stato già possibile chi lo ha fatto ha generato attese che non dovrebbero esserci ma un test di sollevamento costa circa 100 mila euro ci sono dei costi più elevati per i monitoraggi e anche più personale un sollevamento normale costerà sicuramente di meno quindi il mose dovrebbe essere attivo dal 31 dicembre del 2021 dopo il collaudo ma questo fenomeno quello che è successo con l'acqua alta venezia eccezionale potrebbe riproporsi altre volte prima del 31 dicembre del prossimo anno fra 13 mesi ma il mose è stato bloccato per diversi anni prima la magistratura poi le problemi ambientali e il commissario risponde guardi a me non piace fare polemiche o parlare io vengo qui alle 6 del mattino e cerco di fare il mio lavoro che è quello di finire il mose abbiamo avuto dei grossi problemi finanziari che speriamo siano stati superati nel frattempo dopo che nel 2013 il primo sollevamento della barriera di tre porti era stato gestito da mantovani siamo stati in grado di acquisire le conoscenze e fare da soli quest'anno stiamo facendo quello che avevamo detto e sono ottimista per i prossimi due anni vi ringrazio per avermi ascoltato vi rimando al prossimo video vi invito ad iscrivervi a questo canale non costa niente è gratuito e anche siamo su facebook come tele italia notizie e li potete assolutamente condividere tutti i video in facebook e in qualunque parte di internet grazie per avermi ascoltato e buona giornata arrivederci